Lo sport dopo un fine 2020 da incorniciare con nove vittorie in altre tante gare disputate il 2021 per l'ITAS Trentino Volley si apre con un mese davvero impegnativo. Il 2021 dell'ITAS si è aperto con un pomeriggio di allenamenti già nella prima giornata dell'anno. Giocatori al lavoro dunque per preparare un altro big match, quello di domenica contro Perugia, prima in classifica con 43 punti contro i 27 dei giallo-blu, quarti ma con due partite giocate in meno. Quando ti scontri con le prime della classe, al di là della classifica, che ovviamente è importante, è vedere il tuo gioco. Questa Perugia ti obbliga a fare attenzione a tante cose dal punto di vista tecnico. Non si addice tanto al nostro spirito un po' così aggressivo perché è una squadra che ti fa pagare al mille per mille tutti i punti, però io spero che i ragazzi riescano a prepararsi bene in questi due giorni qua per fare una bella battaglia e spero anche che ce ne siano altre con Perugia durante l'anno. La sfida contro gli Umbri apre un mese decisamente intenso per i giallo-blu. Appena tre giorni dopo, all'Epifania, la BLM Grupp Arena ospiterà Milano per il recupero della decima giornata di Superlega. Il 10 gennaio, sempre in casa, andrà in scena la partita contro Monza, mentre il 13 si recupererà la dodicesima giornata di campionato contro Padova. Ancora le Muramiche ospiteranno la sfida contro la top volley cisterna del 16 gennaio, mentre il 24 i Trentini voleranno in Calabria per affrontare Vibo Valencia. Il 27 si passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Se l'ITAS centrerà la qualificazione, l'impegnativo mese di gennaio si chiuderà il 30 e il 31 con la Final Four di Coppa all'Unipol Arena di Bologna.